Ciao ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qua per parlare di un argomento di questi giorni, odierni diciamo, la VAR, abbiamo notato come in Fiorentina Inter ci sia stato un errore clamoroso dell'arbitro, arbitro si chiama Abisso mi pare, adesso non vorrei sbagliarmi, in cui decreta subito il rigore, poi va a ricontrollare e dopo diversi certamenti dà un rigore che non c'era per nulla al mondo. Adesso, io sono juventino, quindi direte, a te che ho detto, a te che ho certificato è l'Inter, no? Però è scandaloso che il VAR sia usato in questa maniera, errata, e si accettino questi errori, perché comunque diciamo che è un errore gravissimo, perché oltre all'arbitro, dietro allo schermo del VAR, ci sono altri arbitri pronti a valutare la situazione, quindi inutile che l'arbitro vai a intestardirsi e dirgli no, se ti ha chiamato, al VAR ci sarà motivo, no? Vabbè. Sta di fatto che fa questo errore grandissimo e infatti viene squalificato e non potrà più, fino a fine anno, arbitrare l'Inter e diciamo, per un mese non potrà più arbitrare in Serie A, cose che non vago niente, perché alla fine se l'arbitro sbaglia così tanto si vede che forse non è così bravo ad arbitrare, no? Oppure ha un po' di mala fede, cosa che spero di no, vivamente. Comunque, com'è che deve essere usato il VAR? O si usa bene o non si usa proprio, perché così l'avere di mezzo in questa cosa non può esistere, non può esistere, bisogna usarlo per bene oppure facciamo senza, che tante le polemiche vengono fuori ugualmente, che sia contro l'Inter, che sia contro la Juve, che sia contro il Milan, che sia contro il Napoli, vabbè che, a dire la verità, contro la Juve si fanno più polemiche per il semplice fatto che la Juve vince tutto in Italia da anni e la gente magari sta più antipatica, no? Ma è sempre stato così, quando vinceva l'Inter era così, quando vinceva il Milan era così, quindi diciamo che è sempre stato così. Bisogna imparare a dar contro a questa cosa, si sbagli non solo quando la squadra tua viene derubata, ma anche quando le altre vengono derubate in maniera ingiusta, perché questo è un'ingiustizia, veramente un'ingiustizia, perché per l'Inter erano tre punti fondamentali, come per la Fiorentina, però l'Inter se li meritava perché se non c'era il rigore, vuol dire che se li meritava. E niente ragazzi, diciamo che questa riflessione è finita, ho avuto questa riflessione qui, adesso ogni tanto farò dei video sul calcio, santuariamente, ecco, non spesso, però ogni tanto li farò, giusto per dare un po', far quattro chiacchiere e sfogarmi con voi. Voi invece su questa situazione come la pensate? Fatemelo sapere e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!